La decisione della Regione Sarda di cedere la gestione provvisoria del Palazzo dei Congressi di Maria Pia al De Carolis di Sassari sino al prossimo mese di dicembre potrebbe causare non pochi problemi alla stagione musicale che ogni estate, da qualche anno a questa parte, si svolge nell'anfiteatro. Nella delibera regionale pare non sia specificato bene se il De Carolis dovrà occuparsi soltanto della struttura chiusa. Il Comune Algheresi ha chiesto chiarezza e la possibilità di gestirlo sino a dicembre visto che la stessa Regione gli aveva già assegnato la parte esterna. Tra l'altro l'amministrazione comunale ha pubblicato un bando per la realizzazione di spettacoli proprio nell'anfiteatro. Ora c'è il serio rischio che tutto salti.